Si chiama Tasha Page, è una giovane modella che fa però anche un only fans, quindi una only fanser e diciamo che si è ritrovata a raccontare di recente nei social network la grande somma di denaro che è costretta, però obbligata, a pagare in tassi nonostante ella appunto guadagni bene e che costa un sacco le tassi. Infatti ha messo un mio su TikTok in cui fa sapere proprio che dovrà pagare ben 86.000 dollari, sarebbero circa 55.000 euro di tasse, è una cifra che è secondo il suo punto di vista veramente troppo elevata, eccessiva. Mettere contenuti abbastanza interessanti e intriganti sulle fans propone anche dei pacchetti, delle offerte che danno anche la possibilità di poter parlare con lei. il guadagno si riceverebbe intorno ai 500.000 euro all'anno, se sommati però ai soldi che devi dare al fisco è una bella cifrotta, va bene? Però le tasse sono abbastanza elevate, lo Stato anche deve prenderselo e quindi lei è di tre mesi disperata, come farà non si sa, ai posti, l'ardo sentenza. Dal narratore italiano di YouTube Italia è tutto, iscrivetevi, seguite la commentazione. Ciao a tutti, da Leandro, narratore italiano.